Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Stiamo andando in diretta, sto controllando che la diretta parte e oggi facciamo Feed Your Fit. Che significa Feed Your Fit? Vuol dire nutrire la tua fitness, nutrire la tua voglia di fare fitness, che fa parte di un stile di vita molto, molto sano. Io sono fissato con forma fisica per un motivo perché secondo me la felicità risiede dentro le nostre mani, i piedi, i muscoli, perché nulla di fuori di noi può renderci felice se non vogliamo essere felici. Tutti noi abbiamo avuto uno di quegli amici che aveva tutto, macchine, bellezza, tranquillità e comunque si lamentava addosso. Poi vedi un amico magari che non ha niente e è sempre sorridente. Allora la felicità non è casuale, è una scelta e Feed Your Fit veramente abbraccia il mio stile di vita. Volevo farti vedere su Food Springer quello che mi piace, questi nuovi Clear Whey. Clear Whey è una proteina totalmente trasparente e molto gustosa. Da qui abbiamo limone e qui l'altro abbiamo mojito lampone. Io che cosa faccio la sera? Mi piace fare cremolati come dessert, come dolce finale. Così prendo questo, ananas, latte di cocco e lamponi e ho, dipende, dipende dalla giornata, e ho i mirtili surgelati. Faccio un frullato ed è molto molto fresco, specialmente il limone perché sono letteralmente pazza del gusto limone. Chiedi chiunque, io sempre sto bevendo le bibite al limone, il sorbetto al limone, se posso amare, pollo al limone, tutto al limone perché sono molto innamorata di questo. Oggi facciamo Fartlek. Che cosa è Fartlek? Fartlek è piramidale. Mio consiglio è se vi piacciono questi video di salvarli. Ok, sto controllando che ci state. Eccellente. Ci state, ci state, ci state. Allora, perché sono in ritardo oggi con il mio allenamento? Perché ho permesso il mio corpo a recuperare. Ho dormito un po' di più. Oggi, perché lavoro anche questo weekend, sarò all'Aquila, sarò, ho diversi impegni questo weekend, così per me oggi è sabato. Ho lasciato il mio corpo a dormire, il mio corpo ha chiesto nove ore di sonno ieri sera perché vengo reddici di undici giorni, veramente intensi. E anche lì sentiamo il corpo, non, non, come si chiama, ok. Faccio partire il nostro Fartlek, ricordate da adesso cominciamo. Step touch, step touch, riscaldiamoci. 15 minuti di lavoro, passando da 10 secondi a 20 secondi, a 30 secondi, a 45 secondi, con tempi di recupero tra una cosa e l'altra. Sto guardando intorno a me, anche i pesetti ci serviranno. 39 secondi ed andremo subito nel nostro primo allenamento che sarà a terra. Andremo a fare i battipiedi per gli abdominali a 28 secondi. Salvate questo video se ti piace e questa dovrebbe essere abbastanza alla portata di tutti. Scendiamo giù, qui cominciamo a fare una marcia per i glutei, marcia per i glutei, abbiamo 14 secondi, un po' di riscalamento prima di cominciare. Ok, fra 8 secondi faremo il nostro primo movimento. Mani sotto le nati, sotto la schiena e batteremo i piedi. Fra due, fra uno, ok, batti i piedi. 10, 9, abdominali tesi, batti i piedi, batti i piedi, batti i piedi, 4, 3, 2, 1, stop. 10 secondi per venire su e andare in horse stance. Ok, horse stance è un movimento che ci permette di lavorare l'interno cosce, ok, scendo giù. Eccellente anche per riscaldare le nostre ginocchia. E la cosa bella di fartlek è, essendo diverso come lunghezza di scatti, diventa più facile da fare. 4, and 3, and 2, and 1. Ok, pesetti. Prendiamo 20 secondi, pesetti, non troppo larghi, non troppo pesanti, scusami, non larghi. Gommati sempre leggermente piegati. 3, and 2, and 1. Se facciamo down dog, up dog, per 30 secondi, che vuol dire? Ginocchio giù, scendo giù, poggio i piedi, torno indietro. Ginocchio giù, piccola flessione, torno indietro. Ginocchio giù, piccola flessione, torno indietro. Bravi ragazzi. 14 secondi, poi ritorneremo sui nostri pesi per andare durante il tempo di recupero a lavorare sempre in modo completo per avere... Ok, vai. In 15 minuti, risultati. Giro, spinta. Abbiamo solo 23 secondi, così non sarà assolutamente troppo impegnativo. Ancora 5 secondi. 3, and 2. Sto usando 5 chili, per chi si interessa. Side kick. Allora, mi metto in posizione di quadrupedia. Calcio da una parte, torno centro. Calcio da una parte, torno centro. Questo si chiama side kick. Calcio da sotto di noi. Abdominali tesi. Qui lo andremo a fare. 45 secondi. E... La cosa importante è di passare, poi anche andare più lento. Le gambe in solevo. Stendo il fino al tallone. Continuo il movimento. 17 secondi. Queste prossime 45 secondi, andremo a fare il nostro ponte marcia. Fra cinque, fra quattro, fra tre, fra due, scendo. Ok. Giù. Abbiamo fatto come riscaldamento. Sollevole anche. Schiaccio i glutei. Ma porto su le ginocchia, come se stesse facendo una marcia. Spingendo verso basso. E sollevando, sollevandoli anche con i piedi di sostegno. Quassù e giù. Questo oggi è un allenamento più dei nostri soliti cinque minuti. Perché quando lavoro con FoodSpring, mi piace darvi le cose un po' più geniche. Siete veramente tanti, tanti, tanti. Mi chiedete di fare allenamenti. Upla. Ci siamo. Dobbiamo tornare quassù. Ah. Oh, siete fortunatissimo. Perché sono in... Wow. Siamo c'era. Ok. Qui portiamo il gomito da una parte e torni su. Sono in squat. Gomito dall'altra parte. Ho invertito. Ha detto, aspetta, dovrebbe essere un minuto e mezzo, un minuto e mezzo. Invece ho invertito. Ok. Vabbè. Gambe oggi sono una garanzia. Ma anche la schiena. Non dovete girarvi. Mi giro io. Incastro. Guardo. Torno su. Non devi essere veloce. Questo è incastro. Spingo. Torno su. Che cosa ho sulla spalla? Si chiama taping. Ho un problema di un intercostale sotto la scapola che ha deciso di andare in contrattura. e mi dà un po' di problema con la spalla. In su. In tre. In su. Ok. Minuto di recupero. Che facciamo con il nostro minuto di recupero? Braccia. Giro le braccia. Curl. Giro. Press. Scendo. Giù. Bicipite. Giro. Spalle. Scendo. In giù. Ok. Ancora circa 30 secondi di questo allenamento. Poi andiamo a fare un esercizio. Per un minuto e mezzo per gamba. Un esercizio che io trovo straordinario per i glutei. Ci metteremo in downward looking dog. Stenderemo le gamba sopra di noi. E lavoreremo il glutei. Quasi tutte le donne, giorno dopo, dicono Jill, mi ricordo quello che abbiamo fatto ieri insieme. e me le dicono. Ok. Ancora due. Scendi giù. Poggi quei pesi. Ok. Siamo quasi a metà strada del nostro allenamento. Sollevo la gamba. Ok. Ula. Ok. Aspetta. Mi devo salvare. Su e giù. Continuate perché io mi devo salvare il mio microfono. che ha deciso di volare via. No. Non volare via. Rimanete. Voi continuate. Continuate. Dobbiamo fare questa estensione per un minuto e mezzo. Per lato. Ok. Schiaccio. Stendo. E provo di aprire la gamba, genocchio più alto verso il soffitto possibile. Guardami le mani. Spingo fermo e torno giù. Spingo fermo e torno giù. Estensione. Torno giù. Estensione. E sto lavorando anche con le braccia. Cioè questo è un allenamento veramente total body. Perché stiamo lavorando le braccia. Allungando le gambe. Facendo un lavoro sui glutei. Su. E cercando di avere apertura. Se ti piacciono questi video. Mi dai un like per favore. Poi l'altra cosa. Ricordate che potete avere uno sconto. Per pochi giorni ancora. Su Foodspring di 15% dopo una soglia. Se non sbaglio di 35 euro di acquisto. Di 15% usando le mie codici sconto. gil. Y. Y. T. Con le sette secondi poi cambieremo alla velocità della luce. E. Giù. Cambi lato. Ta ta ta. Altra gamba. Vado su. Apro le gamba. E stendo e torno. E stendo e torno. Allunga la gamba. E quando allunga la gamba. Fermati là. Ferma. Poi pieghi. Ferma. E tu sentirai i glutei domani. In una maniera. Dice. Ah però. Che bello. Così. Se ti piacciono. Questi allenamenti. Ok. Qui. Condividi là su. Il vostro. Baccheca. E poi. Da domani mattina. È ufficiale. Ma l'hanno detto ieri sera. Dalle sei e mezza di mattina. Alle sette e mezza di mattina. Su canale 53. Mi troverete. Con i miei allenamenti. In televisione. Casa Italia. Allenamento mattiniera. I svegli alle sei e mezza. Ti alleni se. Se vuoi mezz'ora. Un'ora. Tanti allenamenti. Anche per chi. Per chi magari vuole allenarsi alle sette. Troverai un altro allenamento. Ancora. Venticinque secondi. E sono molto contenta. Perché è un modo. Eccellente. Ok. Per avere risultati. Continuiamo. 13 secondi. Senza recupero. Andremo. Il nostro chair. Tra. Sette. Sei. Cinque. E tre. E due. E uno. Ok. Uh. Allora. Andiamo. Il nostro chair è qui. Chair. E scendo. Destra. And su. And sinistra. Ok. Siamo oltre metà del tuo allenamento. Questo è un allenamento di 15 minuti. Giù. And. Che cosa facciamo? Che cosa facciamo? Lo facciamo piano. Lo facciamo per noi. Le ginocchia qua sono parallele. senti che le gambe sono sempre in attività. per tutto il tempo. Per tutto il tempo così. In 15 minuti. l'allenamento è serio. quando vieni qua. Guardi sopra la spalla. inspiro. Inspiro. E spiro. Guardi sopra la spalla. Sette secondi. Prendiamo. Prendiamo il nostro peso. Per quattro. Per tre. Rimani. Due. Uno. Pesi. Curl and press. Curl. Curl and press. Qui. Frontale. Su. Scendo. Giù. Qui. Frontale. Su. E scendo. Continuo. Poi ho detto che oggi è una giornata per me più libera. Modi di dire che devo andare in ufficio. O delle colloqui. O degli appuntamenti. Però insomma un po' più rilassata del solito. La possiamo dire così. Ok. Il nostro prossimo movimento sarà side. Side kick per 45 secondi. Ogni scatto adesso si accorcia. Diventa sempre più corto. Mi dà ancora nove secondi. Poi ci posizioniamo. Prendo il nostro side kick. Ripeto. Fai tutto lentamente. Se io vado velocemente. Sembro una. Non sono un drago. Però. Qua. La verità. E con la velocità posso rubare. perché uso la velocità stessa per non appoggiare peso su i muscoli. Stendo. Trattengo l'interno coscia. Stendo. E trattengo. Ok. Ventitré secondi. Poi. Andremo nella nostra marcia knee up. Che è eccellente. Stiamo facendo tante gambe e glutei con questo fartlek. nove secondi. E mi penso. Mi piace questo fartlek perché penso che è alla portata di tutti. Perché ripeto siete tanti. e mi scrivete in tanti. Mi fai questo. Mi fai questo. Mi fai questo. E di. E quando lavori con tanti. È come iniziare in sala pesi. Non sala pesi ma. Entri in sala fitness in ufficio. In ufficio. Perché per me la palestra è ufficio. E c'è uno che comincia oggi. E uno sta lì da cento giorni. e tu devi comunque avere l'accortezza di far lavorare tutti. Continuiamo su. Su. Mi dà ancora cinque secondi. Poi ci saliamo. Dieci. Ok. Su. Ok. Down dog. Up dog. Io lo faccio adesso. Voi potete farlo con le ginocchia giù. Io li faccio ufficiali. Up dog. And down dog. Lento. Qua. Come ti chiusi. Up dog. And down dog. Spingendo indietro. Giù. Up dog. And down dog. Qua. Scendo. Stendo. Torno indietro. E l'ultima sera soltanto scendendo giù. E giù. Up we go. Ok. Spinta con i nostri pesi in su. Solo in alto. Ovviamente alla fine ci escono fuori una quindici secondi di lavoro. Poi andremo a sumo. Sumo horse squat. Però molto semplice. Tre and due and uno giù. Mi piace questi allenamenti concentrati perché molto persone non hanno tempo di allenarsi e se vuoi questo concetto di food spring feed your fit. Feed your fit vuol dire nutrire la tua fitness ma non è solo di nutrizione è movimento sonno community ogni tanto rilassare ok eccellente alzate alzate laterali fra cinque secondi ci dobbiamo mettere giù per finire in bellezza con i battipiedi ok giù cinque secondi ultime dieci secondi amici miei ultime dieci secondi mani sotto le natiche sotto la schiena e batti dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due and uno stop feed your fit amati a tal punto di fare sempre ogni giorno qualcosa per il vostro benessere ripeto quindici minuti sei fatto tutti i giorni con la costanza è un modo per iniziare il primo cosa che dobbiamo fare è nutrire la costanza nutrire la disciplina e noi possiamo nutrire anche diciamo i nostri muscoli con food spring molto di voi mi chiedete quale proteine devo prendere food spring ha una schiera di proteine vegane e non clear anche se vuoi whey ci sono veramente tantissime diverse opzioni gusti sapori è molto importante dopo 40 anni 45 anni nutrire i muscoli perché abbiamo la sarcopenia che vuol dire l'invecchiamento muscolare e per sostenere questi muscoli tutti i nutrizionisti e anche i grandi medici dicono aumentate l'uso delle proteine specialmente dopo 60 65 anni ma noi possiamo portarci avanti con l'allenamento sano stile di vita e nutrimento già da prima così arriviamo a 60 anni preparati va bene vi voglio un sacco di bene se vi è piaciuto questo video dammi una like condividerlo sulla vostra baccheca e passate una giornata figatosa e ricordate Jill mio nome J-I-L-L Y-T come YouTube avrete uno sconto pari a 15% su Foodspring foodspring.it con un acquisto superiore a circa 35 euro se non sbaglio magari sto sbagliando ma c'è una piccola soglia però c'è tanta beneficio perché avrai 15% di sconto grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti